La denatalità, l'invecchiamento della popolazione e la cosiddetta fuga di cervelli presentano il conto al mezzogiorno, dove il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori. E' quanto emerge dai dati pubblicati nelle scorse ore dalla CGA di Mestre, secondo cui, se a livello nazionale il rapporto è ancora di 1 a 1, nel sud il sorpasso è già avvenuto. La Puglia è tra le regioni a destare maggiore preoccupazione. Nella classifica nazionale occupa infatti il penultimo posto davanti solo alla Sicilia, con 1.267.000 occupati a fronte di 1.493.000 pensioni erogate, un saldo negativo quindi per la Puglia di 227.000 unità. Fa meglio la Basilicata che, pur restando in negativo, ha un numero di pensionati superiore di 27.000 unità. I dati della CGA di Mestre portano quindi a galla la fragilità del sistema pensionistico attuale, ormai non più sostenibile dato il saldo negativo che, se il trend non dovesse cambiare, è destinato ad allargarsi anche a livello nazionale. Tra le prime azioni da adottare, sottolinea ancora l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, c'è il contrasto al lavoro nero che oggi conta oltre 3 milioni di lavoratori. Entro il 2027, si legge nello studio, ci sarà da sostituire quasi 3 milioni di addetti. Nei prossimi 5 anni, invece, quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. Con sempre meno giovani, si legge ancora nel rapporto, destinati a entrare nel mercato del lavoro, sostituire una buona parte di chi scivolerà verso la quiescenza diventerà un grosso problema per tanti imprenditori.